Accademia Isola Classica and Festival è un progetto didattico culturale unico in Italia che si svolge in un ambiente speciale. Ci troviamo ad Isola Maggiore, una piccola perla del lago Trasimeno abitata solo da 12 persone che è in realtà anche una importantissima meta turistica per il valore storico, artistico e culturale che rappresenta nel territorio Umbro. 12 giovanissimi artisti selezionati in tutto il mondo vengono qui a fine agosto per intraprendere un percorso didattico insieme a 4 docenti di fama internazionale. Offriamo a questi giovani artisti la possibilità di affrontare un corso di alto perfezionamento per violino viola velocello e musica da camera totalmente gratuito ad Isola Maggiore. Il rapporto tra maestro e allievo qui all'Accademia Isola Classica è qualcosa di molto speciale perché come voi potete notare l'isola molto spesso è molto tranquilla, molto meditativa e c'è proprio la possibilità di trovare momenti per parlare non solo di musica ma anche della vita, delle esperienze personali, dei problemi, di quello che sta succedendo nel mondo che così crea direi abbastanza una certa intimità. Ci si conosce, si capisce, ci si aiuta. È molto molto speciale penso. Dopo la settimana che trascorrono qui, gli allievi possono andarsene con una maggiore consapevolezza. Studiando insieme il repertorio che proponiamo, migliorano la loro capacità di orientarsi da soli nella partitura musicale anche quando noi non saremo più con loro. Quando i ragazzi tornano col traghetto sulla terraferma, tutti noi speriamo che portino con sé una visione più ampia di come la musica si costruisce. E' vero che qui con la location che è magnifica e con i professori abbiamo imparato tanto con un lavoro molto intenso, le giornate sono estremamente dense e piene e non vedo l'ora una volta tornata a casa di assimilare veramente tutto quello che ho imparato. Abbiamo anche scoperto del repertorio nuovo nella musica da camera. Io ad esempio non avevo mai suonato Debussy, ma avevo sempre sognato di farlo e questa è stata veramente l'occasione ideale. Vado a casa con un grande sorriso. Sono molto fortunata e grata di aver avuto l'opportunità di essere qui ad Accademia in Italia e ci tengo ad esprimere i miei apprezzamenti verso il festival. E' un posto meraviglioso in un bellissimo contesto naturale e io amo suonare la musica da camera con altri studenti con i quali ho fatto amicizia. E con alcuni tra i più grandi musicisti del mondo. Posso solo dire che è fantastico e che non avrei potuto desiderare un'esperienza migliore di questa. L'obiettivo di Accademia di Zola Classica in festival è sostenere le future generazioni di musicisti, dare loro un segnale di speranza e soprattutto di fiducia perché stanno intraprendendo una carriera complicata, difficile e noi offrendogli questa opportunità stimolante e gratificante vogliamo anche in qualche modo ringraziarli per la scelta coraggiosa che hanno fatto. Comunicato Comunicato Comunicato